Prima di rivelargli la sua identità devo scoprire cosa è successo. Una serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi. Non è brava mentire. Sapere che Marcello è ancora vivo mi ha sconvolta. Ha un figlio. Tu sei ancora convinta che io sia convolto nella morte di tuo marito? Tu lo sai meglio di me, quello che è successo quella notte. Sei vicino alla verità. Gabriel Garco, Anna Safroncic. Se potessi dirti addio. Giovedì in prima serata, Canale 5.